Ciao, 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 ciao da Svideo! Allora state già pensando Pandora, i panettoni, i regali, i pacchetti, insomma Natale è sempre più vicino, però lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, però volevo ricordarvi ancora una volta, se ancora qualcuno non lo sa che oggi c'è il torneo, stasera alle 21.30 ci sarà il torneo di Fortnite, io in collaborazione con il mitico Franci Gabri, faremo un bellissimo torneo a premi in collaborazione, quindi premi da 880. V-Bucks, quindi sarà un torneo duo, quindi ciascuno del duo vincerà un premio da 800 V-Bucks dallo shop, e insomma, cos'altro dire? Venite, 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 ci sarà da divertirsi, quindi venite, venite, anche se uno dice, ma io sono un po' scarso, fa lo stesso, tranquillo, poi io sono più scarso di tutti su Fortnite, quindi c'è, lo dico io. Faremo dei server alternati con, una volta con le costruzioni, una volta senza, una volta con le costruzioni, una volta senza, e vabbè, non si può tramettere l'anonimo, non si può usare il martello onda d'urto, ma comunque dopo, dai, le regole ve le diremo in live che è meglio, sennò diventa una cosa lunga, prolissa, troppo, troppo, parlo troppo, dopo magari non seguite più il video, vi stancate. Allora, comunque, no, davvero sarà un torneo davvero mica male, quindi, venite, venite davvero, tanti, tanti, condividete questo evento, venite, venite, numerosi, che ci divertiamo a questo bel torneone su Fortnite. Prima del, che arrivi Natale, le feste, cioè, dai, facciamo un bel torneone, così, tutti insieme. Ciao, 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 sarà mitico anche Franci Gabri, vi metterò anche il link in descrizione di Franci Gabri, così vi iscrivete anche da lui, perché per poter partecipare dovete essere iscritti ai nostri canali. Ciao, 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 e stasera ci si vede alle 21.30 per il torneo di Fortnite. E comunque farò una live alle 13.30, anzi, c'è un sondaggio in corso nel post-community per decidere se alle 13.30 ci sarà Fortnite, oppure... No, 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 scusate, non Fortnite, Fortnite c'è stasera, tra StumbleGuys oppure Rocket League. L'ultima volta che ho guardato stava per vincere StumbleGuys. Comunque, va bene, ciao, ciao, ciao.